La sera del 29 ottobre 2018 Sono uscito di casa per andare a vedere che cosa stava succedendo Ero abituata al vento perché qui in mezzo al bosco tira ancora spesso Però era un vento caldo, strano, proprio una cosa quasi surreale E poi continuo e per due ore, sempre con la stessa intensità E ho visto una luce in mezzo agli alberi Ho detto ma come mai vedo quella luce? E da lì un'ora questa luce diventava sempre sempre più luminosa E non credeva ai miei occhi vedendo la devastazione che c'era proprio È caduto tutto E lì è stato un silenzio a farla da padrone Cioè il caos che si è generato fuori lo abbiamo acquietato dentro di noi Aprendo le finestre, le persiane Ci siamo resi conti che il nostro orizzonte, il panorama delle nostre esistenze Quello fisico sarebbe cambiato per sempre Ho atteso fino a dopo Natale per vedere quello che era accaduto Erano caduti tutti gli alberi E mi è sembrato di essere nell'universo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.